Ecco siamo qui al lavoro, in corso d'opera, è bello, bravi, quindi stanno facendo i lavori anche al momento, sono tutti lavori, stanno lavorando praticamente al momento, giusto? Sono tutti quanti al lavoro, siamo pronti per il villaggio, qui c'è un'opera di artigianza qui, i giornalisti al lavoro e gli imprenditori al lavoro, tutto da zero, il trenino, siamo in compagnia dei colleghi di Corsi Italia News, che ha partecipato alla nostra conferenza stampa no, cioè non c'era niente qui, non c'era niente lo prendi per il lavoro, tutto a mano, lo stai facendo? tutto manuale ecco i lavoratori su Corsi Italia News, complimenti il trenino gli orari faremo le 10 mattina fino alle 10 di sera, orario continuo, dal primo dicembre ci saranno dei giochi, certo ci saranno dei giochi, di intrattenimenti, ma anche fuori, una volta visitato il villaggio e cose varie, i bambini potranno divertirsi fuori con scivoli, giochini che danno sia il senso di Natale, ma soprattutto che li trattengono ci sono pure dei mercatini che vendono cose varie all'interno ci saranno degli espositori che daranno qualche prodotto locale, sono tutti espositori comunque è una cosa dedicata, pensata soprattutto per i bambini soprattutto per i bambini, principalmente quello dal primo dicembre fino a quando? venite, correte tutti quindi San Magnele, come abbiamo visto, sta organizzando con un programma pieno dal primo dicembre al 6 gennaio ed inoltre i privati si sono cimentati un programma da fitto come dice il nostro giornalista venite tutti venite gente Attilio e Attilio Massimo Attilio Massimo Attilio Massimo due righe due battute con Attilio cosa pensi questa sinergia privato pubblico è stata il signor Coppola allora si dalla prima dalla prima intervista fatta ho visto che c'è un enorme interesse in questi giorni tutti a chiedere che cosa sarà che cosa stiamo facendo abbiamo avuto effetto sicuramente 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 sì stiamo una bella idea un'aspettativa che speravo che speravo ma va al di là delle mie aspettative in verità e ci avete sottovalutato è un bel lavoro direttore due battute con un un che ti ha tecnici e non farete la barba da lavoratore questa è un'opera ecco c'è un'opera quasi tutta realizzata da voi è tutta generale quale sorpresa ci sarà in quel villaggio più attuale è una cosa pre-confezionale manteniamola un segreto un segreto ancora più simpatica ci saranno ancora altre novità vabbè noi vi aggiorneremo compi venti va bene grazie il trenino il castello di Babbo Natale gli enti con tutti a lavoro vedi ecco qua alberi magici